ora in questo momento mi piacerebbe stare su un terrazzo magari con un po di venticello che mi accarezza i capelli una cosa lieve proprio un terrazzo normale e mica chissà cosa certo magari ecco mi piacerebbe stare in un bel posto cioè in un posto piacevole un terrazzo in un posto bello sul mare in un posto bello vorrei stare solo andrebbe benissimo oppure con una persona si una ragazza anche carina diciamo bella mi piacerebbe stare su questo terrazzo con questa ragazza splendida e bermi una cosa fresca una cosa qualsiasi basta che sia fredda l'importante che sia fredda champagne una coppa una flutte di champagne accanto a questa diciamo modella franco israeliana si franco israeliana magari con una spiccata sensibilità per la questione palestinese ma guarda non fa niente come vi pare purché sia bellissima bella di una bellezza deve essere da farti venire il magone che proprio la guardi e dici ti piace la sardegna la sardegna andrebbe bene diciamo porto conte in autunno fine settembre 24 gradi e mezzo ci deve essere il sole ma anche un certo freschetto se posso dire un maestrale leggero che comunque non temo perché ho un golf che mi dà quel senso di protezione lieve un normale golf è mica niente di che un normalissimo golf di cashmere un tre fili diciamo ma che ho da tempo cioè anche con dei pallini per dire ma pochi diciamo due pallini che non si vedono pallini diciamo minuscoli che li guardi e dici e che cazzo però l'ho pagato quanto una macchina sto golf cioè voglio dire l'ho pagato come la mia vecchia macchina perché dietro al terrazzo che potrebbe essere di un grande albergo diciamo un cinque stelle ma elegante non sfarzoso fan du siècle dicevo dietro al terrazzo c'è la mia attuale macchina una maserati mc 12 che sto pensando di cambiare perché c'è sto colore che se posso dire alla fine è un po così ma intanto mi devo scusare ci ho ripensato e più che la sardegna andrebbero bene le figi che solo la parola figi ti fa venire un brivido lungo la schiena fino al collo che dici figi e già stai scopando ma senti una voce fastidiosa che ti dice ma scusa perché hai la macchina alle figi no ecco tu perdonami non ti preoccupare fai il bravo che se mi gira dentro alla macchina ci ficco un'altra macchina solo per il fatto che sono un uomo libero audace ricchissimo e io dico a sophie ti chiami sophie a ti chiami monique scusami monique ma in questo periodo ho tanti di quei pensieri ad ogni modo ti andrebbe monique di fare un giro al tramonto più tardi in barca ora non la vedi la barca perché è nascosta da sto promontorio è arrivata l'altro ieri questa barca l'ho aspettata tre anni si è un atlantis l'ho pagata tutta quanta tre anni fa perché una barca così josephine non ti scoccia se ti chiamo josephine vero prima la paghi poi in tre anni te la costruiscono e te la consegnano guarda che meraviglia guarda come le finestrature interrompono le murate di poppa fondendosi con il parabrezza guarda il profilo e ti prego nota il pozzetto sabrin nota il pozzetto guarda come questo benedetto pozzetto si abbini dio santissimo tecnologia comfort e abitabilità tuttavia attenzione perché il vero fiore all'occhiello dell'atlantis tu lo avrai già capito e la copertura del pozzetto come su un'auto sportiva la capote è completamente integrata nella struttura in vetro resina e si apre a ventaglio grazie a un meccanismo che non ti sto neanche a spiegare tu mi starai per dire del fin che tutte queste dotazioni non hanno nulla da invidiare a imbarcazioni di maggiori dimensioni e invece alla fine è proprio questa la profonda sfida lanciata da questo yacht stufarsene presto regalarlo alla ciurma e andare a comprarsi una barca ancora più grande perché lusso e comodità cara la mia vivian non sono una questione di misure né di prezzo ma di mentalità no in macchina al porto non ci possiamo andare perché è successo un casino dentro la mia maserati ti ho fatto ficcare per sfizio una bugatti veron 16.4 foderata di cashmere si con due tre pallini un disastro di lamiera insomma è vero ti chiami monique però cerca ti prego di non contraddirmi che mi viene un fastidio alla cervicale se vengo contraddetto che mi costringe a un trattamento beauty all'uva fenn ispirato ai più magici segreti olistici fatto di legno pietra fiori di loto e cespugli di erbe aromatiche in cui se mi gira posso defecare sì françoise hai capito benissimo no non sto calmo ci defeco così come posso defecare nella mia bugatti foderata di cashmere che se ci trovo un altro solo pallino non foss'altro che un'idea di pallino me ne torno a casa nella mia reggia bizantina dagli spazi cartesiani e dai soffitti altissimi e inizio a spaccare tutto quanto con la mia mazza da golf d'oro zecchino con quel manico scomodissimo cesellato di diamanti che questo manico mi sta sommamente sulle palle non si può capire quanto lo detesti questo manico perché è proprio un manico di una scomodità mi si deve credere senza pari mi dà un fastidio difficile anche solo da raccontare un fastidio colossale che proprio questo manico mi si permetta è un manico di staminchia che non ve lo potete neanche immaginare io lo schifo sto manico mi manda i matti e sfondo sorvolando sulla somma scomodità del manico tutto quello che c'è da sfondare nella fattispecie per prima cosa le opere di warhol schnabel botero e cli che ho comprato ma che mi hanno sempre fatto cacare perché ho talmente tanti soldi che posso dire che botero è un ciarlatano e a cena la gente mi dà ragione perché vuole mangiare e sa che se si indigna poi magari io perdo il controllo e li prendo a pedate si cara la mia brigitte una volta l'ho fatto ero atterrato a monte carlo con il mio jet privato falcon 2000 planando su quella cittadella provinciale con la stessa delicatezza con cui la sera appoggio la testa sul cuscino di seta e ho raggiunto devo dire che ero già di pessimo umore tutti quanti gli amici al bar americano di cui possiedo il terzo e ultimo piano e alla seconda bottiglia di perrier jouet belle époque dal colore oro pallido e finissimo perlage tostato vanigliato al naso gentile fresco floreale delicato che spesso mi diverto a versare sui tappeti persiani così senza motivo ho semplicemente dato di matto perché mi stavo annoiando a morte e ho preso tutti a calci ho preso a pedate romeo adorno d'afflitto ho preso a pedate agnesia guselli ai rol di albani ho preso a pedate contemporaneamente alberto al do brandeschi coppola di gallicchio e giovanna ferrero di gubernati sventimiglia a sofia bagatti valsecchi ballero barbaro mi sono limitato a sputarli mentre ad andrea arborio mella da riamone ho dato una testata davanti al suocero arnoldo boiardo arborea bolognini ea sua moglie giulia brivio di pavia broglia brundedo deufrandici cui poco prima avevo messo le mani addosso davanti alla cugina diciottenne diamante isimbardi gualdini cortavecchia sposata arduin di gallese de moiana colloredo ciocchi dal monte cisa asinari di gresbifilo marino clerici sì che c'è non ho capito no non stavo parlando da solo stavo pensando a una cosa a devo rientrare di già è già finita l'ora d'aria ok ok vengo e niente buonanotte